buona salve vediamo hey baby ok vediamo si si buona a tutti ragazzi ah yeah bellissima dai lui vabbè faule no e no michael sei secondo tu noi diciamo di perché vero michael non si dica perché parigi secondo parigi ciao luca ciao kim ehi quanti spettatori oggi ciao minecraft pro 21 ciao ciao vedo il paolo oggi è il primo è il primo nice andiamo da un posto burro let's get out in live oh dio oddio ok come andate questa giornata come state come tutti no ecco ok vai fa lui random join questo no ciao ciao daniel vabbè franci basta lo togliere vabbè ciao ciao daniel iscriviti per venesi franci ts è qui è bugeito 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 è bugeito 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 ok i franci ci sono la passore è quella di ieri ehi 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 bella 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 eh luca 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 aspetta a giocare ci vengo da ora ah come l'ho scritta garoncioni no a fuoco vengo gioca servizio non posso perchè sono bannato gioca 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 e perchè si è umano iscriviti gioca 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 da 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 lol non guarda ciao janic come stai bene dico attacca in war eh eh ok a 200 iscritti devi fare si war academy siamo a 190 prepara qualche eh ah si tanto io ne potrei io ne potrei chivare alcuni io ne potrei chivare alcuni oh yeah quando ok ora si scende i pink i pink hanno fassi letto i pink hanno fassi letto hanno fassi letto hanno fassi letto sentì le sue cose 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 le sue le sue le sue le sue ecco Vai, io che era su Chris No, è il mio server Eh, tanto sei affermicile Eh no, sono f***te Non ci gamer te peggsato Eh, io sono f***te, non come te Tu sei knap knu 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 Set otto persone nello Skype Oh, ho fatto un mio skate Però non so come scrivere Eh, grande Thomas Come scrivo in Come scrivo in Intanto un iscritto Si è suicidato per la patria No 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 da rada non 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 wait oh oh man oh no ok ah ah chai è andato dai blu anche se la base dei verbi era l'altra wow molto astuta come mossa bello come spiegare le attività intanto francy ha l'ebola francy perchè l'ebola? l'ebola è contagiosa fattene via mi vuoi far ammalare di ebola dopo ho acceso mine ragazzi no perchè le cose non servono sp e non è sp vabbè una la facciamo mica devono giocare per forza con noi ragazzi non ho scottato non mi vuoi non mi vuoi questo intanto è un tic knockback ma dettagli ha 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 c'è un tic knockback ma dettagli bello benissimo questo è quello che succede quando viene inciso 2v2 no c'è 3v3 perchè no no 4v4 andiamo a vedere se c'è qualcuno si ecco quale è capito no si 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 tu capisci team giallo no no team giallo nick aspetta nick team giallo ciao sono in live ti faccio la music gott tentazione stavolta è la notifica non mi arriva da a me se a lui si capito gg per lui oggi è dice fatemi entrare si oh mi metti già nel ah mettimi già nell'admin hey 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 cari fratelli e sorelle porco dio non è tipo tipo ace cracker no io sto facendo qualche duel non ce ne fega il fofo niente no auguri ma non giochi più 6 pixel microman eeeh ho il bano però e' permanente per cosa per il mitigation ma stato bannato permanente no ma io due settimane tra dietro tipo nove giorni mi sbannano un watchdog di ucci e io permanente non mi pensi che sei molto bravo perché dei mesi fatti complimenti da solo perché gli hanno accettato la p al del ban ferma e quindi vero no ok e ci ho provato in ci sei riuscito da dc perché perché è perché questo è così forte che mi hanno bannato fatto uguale uzuni no no ma un po che ritardato questo era così forte che vedevi che vedevo i player da 120 blocchi ah no hai la render distance a quanto ce l'avevo ma dai c'hanno già di sottiletto vantiva e vovo schifo ma in casser versiata guarda carne su arena craft arrivo subito che sono tic ma la knick nasa su mainman.eu e stasso ora cani to contro uno che ha 6 di ping ragazze che cazzo dovrei fare beh mica le arc lo uccidi tutte scusi di spam mangiato no te lo giusto bene mamma le arc rega io vado su arena graf volete venire oh mio dio papà ma che altro? si adesso arrivo su arena sta bobbello siii e dai eh te l'ho detto ma tua madre è una brava persona no gli ho lasciato due pozze a uno che pinga 6 oggi ogni volta avori vedi i unden n e me l'hanno portato cosa appena hanno sentito le mie orecchie raga siete su ts di arena kraft? no siete su minecraft ats ora andiamo su tv no 4v4 con la da 7 si NIC TEAM VERDE TEAM VERDE raga ma che manca la musica nico sei fuori ma che cazzo ah infamia ok funziona bene ora ti faccio una donazione in giù ma ti ho 50 centesimi bella raga no non fai comunque c'è lei quella cosa che tipo quando uno ti dona ti esce c'è quale robot si si oddio raga io sono su arena kraft ah no il robot che parla no ti ho la notifica e uno che balla incasseggi siete? ma noi siamo su war a calibro perderemo di nuovo il letto a base porco dio a base porco dio ti banno ferma raga però passate la musica te la ricacciamo a di nuovo a di nuovo che 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 boi ale che 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 non può trovare un maestro Se a dove potessi andare a Hits Factor, secondo me Sono da Reception Sare un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones E non la push nelle Rolling Creepers Io sono Livi il Cielo Vai 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 Come sei forte Sai chi c'era? C'era uno della televisione Non ha capito Chi è? L'abbiamo capito Togli la musica, fa cagare È carina invece No, tu sei carina Dai Rossi Dai Rossi Ok Porco Mi è uscito la musica Certo Michele, veramente, iscriviti Oh, i distruggi rossi E' bello dove si fanno cagare Nicca E dove? No, fanno ancora più schifo Che infatti Di Roma, da quanto sei? Nooo Sono ancora 6 ma a dettaglio Mi ha ritardato Sei napo Ah, io? Sei Dello Sei Unicromo Tu hai problemi con Windows? Ok, gioco a vita Ti abbasso Nooo 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 Che figo Che figo Che figo Noo Io ho problemi con Windows Media Player Adesso devo farci una cosa Tu 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 Ma seriamente Quals'anno Lei Sei riuscito a fare Le perfume? Chi? Tu Perché lui è ritardato Rien Infatti È vero Me lo dicono un po' Tu Dai Hai 191 iscritti Thank you 191 iscritti Ahah Che figo Ho iniziato una settimana fa Certo Ho iniziato una settimana fa Facendo le live si fa con Fran G Gamer Zitti Shhhhhh Cosa? Shhhhhh 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 Fucking god Dark iscriviti No, io non mi iscrivo Ah, Vezzo, Vezzo Ah, Vezzo Vezzo Oh, raga Io sono giusto Vezzo Si Si E che rank sei? Vezzo Da quando sei sul rank? Da sempre Ah, davvero? Cioè non da sempre Vero Io non sono nessun rank Allora Cioè non ci gioco tanto No, cazzo No, cazzo Son morto Mi sa Eh, mi sa di si A me ma no Ezz Mi sono ucciso un full iron Ezz Come ti chiamavi? Come ti chiamavi? Ma dove? Come si chiamavi? Come si chiama il full iron Che hai inteso? Cioè io sono funghiere o nudo Oh Oh Si chiama Eh Ehm Ehm Meioff Tipo Ah non ero io Eh Aspetta chi è? Come? Chi sei? Come? Son morto E' tutto P questo Grazie per l'iscrizione Certo mi chiede L'ambi Iscriviti Posso fare screen con te? No, non puoi Cazzo Cazzo Ma quello si sta suicidando nel bordo WTF Sei zopponado My camp Eh E' rotto Starod Ho due cuori Ma Franci sei morto? Sei better sulla minchia Si infatti Cambiamo serve Eh venite su ArenaCraft No Su ArenaCraft sono bannato Ah Che Su best game Ancora peggio Oh yeah Vai Best game Sì Ma perchè l'Alice mi ha sempre l'errore Nick Fa il party Oh un attimo Si Oddio GG Il distrutto di Montinpan Aiuto Un attimo Il partito Falta Mal Che Usa Tutte Al Un attimo Un attimo Che D Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Vai Vai Quali parti Nabbo? Oh Nabbo a te Oh cosa? C'è troppa luce dentro Si? Ha interrotto Che hai detto? Vieni su The Cold Network Oh ma tu sei una Gold Network Ma io Ma io non volevo Invece lo sei Nick Parti Eh l'ho fatto No siamo su Best Games Best Games Best Games Best Games Best Games Cos 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 Che c'era Che c'era Chi era? Bu Scasca Brrrrr.. Brrrrra Schiaccia Schiappa E dopo facciamo speeduahc Ok Aspettiamo tanto fà di gente Ciao Mattia iscriviti Dov'é che fate speeduahc dove? No! Ho proprio portato lo spazio Non è vero su Unicraft Unicraft Sono permabannato Unicraft Unicraft. No dopo Adesso ho Bad Wars Sì 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 Iscriviti Ma tu sei un abbo In MC E infatti ti do sempre la L Ma tu sei un abbo In Minecraft Poi vediamo Poi vediamo su Clash of Clans Chi era chi Vieni Vieni su Sul server ti mando l'IP Thank you che sia scritto Thank you Mattia Mandamelo pure a me l'IP Mandamelo pure a me l'IP Ma le cazzo Puscia sul mio padre Eee Già ho fatto i party Ciao Jakob Iscriviti Zitto Rispondimi Raga Entrate in questo server Ma chi ci vuole Entrare Dai Facciamo un po' di practic Dai Nicroma Dai Nicroma Vieni su practic di questo server Voglio vedere quanto sei forte Cosa Dai Entra Voglio fare le bad walks Voglio fare le bad walks Dove andiamo su practice Si L'arco è Entrate nel Che Nic C'è troppo luce C'è troppo luce Come ti chiami? Chi? Xtentation Come su TS uguale? Nic Sta 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 bad walk Nic come è X eh? Come su TS? Aspetta X Come su TS uguale? Aspetta quindi Ehm Numbe No no Nic E' un attimo Xtentax Eh si No Ti marco Eh 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 Oddio Vabbè Grazie perchè si è scritto Come ti chiami? Accetta Ok No Kid Horse perchè? Grazie Zetalac Dai Dai Eh lobby 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 Ciao cavallo Ciao cavallo Tartarà Oddio E' fi- Ah Cristo è un figlio Di Dio Vabbè 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 No Vabbè C'è troppo luce Nella scuola di danza Nella stoma Oh my god Ma perchè mi picchiano solo a me Tu hai tutta Oh un alto si è scritto Thank you Che si è scritto Damn me kid Thank you Quanto sei oppi nell'arco Un alto stelle sui pixel Infatti è nabbo Sei 9 stelle What? No Gli hanno regalato una cosa No Vabbè Che sei bravissimo Complimenti per le 9 stelle Ma il ponte è già fatto Franci L'ho fatto io Ah Io veramente sono 9 stelle Subito Scuola Se il ponte è greco Se noi siamo io Eh 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 Ah Oh Aspetta Io guardo ora le potete per cliccare Ho capito Oh Copiletto Franci Cioè hai fatto tutto Tutto sto letto Subito Adesso Ciao 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 Zagra24 Iscriviti Mi duelli Mi duelli Mi duelli Se c'è Eh Quittata Ma perché mi voglio ammazzare tutti? Uhu 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 D4 Ciao 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 Raga iscrivetevi E Fa Lobby Quattro Nick Nick Non perde i diamanti Perché li sta usando Più Loro Dico Prendili in ritorno No Non lo Anzi Non serve Ho già di sottiletto ai bianchi C'è troppa luce dentro la stanza Niente Aiuto Sono premium Giorgio che merita Iscriviti C'è troppa luce dentro la stanza Niente Fiano piano Non ci credo Mi sono nascosto sotto l'isola No No Ma cosa? D'inforza e sharpness Se gli sp premium sono premium Certo vedico che giocheremo insieme Dai Go Vuoi fare sp? Che sono gli sp? Sai cosa sono? Cosa siano gli sp? La gente che non ha Minecraft premium Mi sono caduta Questo è un server premium? No è SP Questo è un server premium No è un server premium Che è troppa luce dentro la stanza Ehi 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 Hai preso la teglia? No Hai preso la teglia? Eh no Hai preso la teglia? No Adesso lo faccio Io no Ma Ok ci sono Ci sono Ci sei Ci sono Ehi Sono morto L Aio Magari racconta le botte che ti metti Dalla mattina alla sera E non parla Ti ha detto GF Mi fai le sharpness Ho fatto Bravo Allora servei a qualcosa Ma perchè tu hai la lana nera E io quella la celeste E il kit No No Sei proprio bravo Vaffanculo Best clean up Nooo Mi ha fatto come la fila C'è troppa L'uomo Basta Sarà solo Chi ne appare Sono mentato in testa Fattelo uscire Ok Intervento chirurgo No Vengo la kit E' morto Hai capito? Si Oh Minacciali Un pugnetto Ammazzo Madonna Stai Ti ammazzo davvero Stai Nella realtà Vai Let's attack Pink Ti ho scritto eh Ti ho scritto Let's attack E' morto Ma che cazzo Ma che cazzo Scusa Perché non apprezzi Il gioco di squadra Nooo Con il mio cuore Mi morrò nel nascimento Non mi riuscivo a attaccare No ma questo c'ha le hack Nick Ma non mi urlare che mi fai prendere gli infatti C'ha le hack E' bravo Saluto Mi devo impegnare Mi devo impegnare Ho capito Ragazzi Si Cheat Mi devo impegnare Aro tutti Broz Brozeus Ha scritto Struz Brozeus Lo conosco Ha un tuo amico? Crazy Network Ho il Crazy Network Lo conosci Era un tuo amico Wow 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 Aiuto Franci Ci attaccano Vorrei dirle Ah Franci 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 che non fa niente Tranquilla Ma la sera Cosa tranquilla Ragazzi vedi schizzo anche se schizzo Cosa Cosa che ci stanno diseggiando il letto E' buttata giù Ma che ho fatto tutto io Fammi le prove Questo ogni poco dice GF Mi sta sui coglioni Poverino E' pure un iscritto Non è l' iscritto Si è un iscritto Allora sei un coglione No scherzo Perchè Perchè vi siete dis iscritti Non vi siete dis iscritti Non vi siete dis iscritti Dis iscritti Con FranciGamer 99 Che cacchè Se non è 9 Questo hackerava Ha passato il po' Cioè ho fatto un muletto Lui ha saltato 3 blocchi Senza pozzione Senza pozzione Questi hanno le capo infinite rosa Vabbè Ciao Me ne vado Si 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 Tu Ma sono diventati tutti forti Non ho capito No sei Ah Sei turn up Ucciso Ha detto che non c'ha l'audio Ti ha scritto Non ce l'ha Hack evidenti Franci per cui si è hack Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire puttana in burco Pocherino Mi stanno facendo un 2x2 E questo non pende Knockback O sta lagando O non pende Knockback Na ni na 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 ni na na Ok 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 Ti piacciono Ti piacciono quasi? Cosa? Le bedwars Eh normale Vai sono uguali Cioè cambia solo il prezzo Non vedevo più niente Sì felice Lascio i perdi nick Eh sento già gli ho distrutto il letto Punta tutto sui 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 In rosa Se sei felice batti le mani Tutti Eh No Babà Gigi Fortività È vero Non ce l'hai Eh No Sì chi fa tutti Eh No cioè li scriviamo in chat E quindi che le prendono Te li prendono No Sono con i Degeneratori Attento Frank Mi sa che sono spaccando il sentito rumore Si vuoi io Se perdiamo il letto so a chi dare la colpa No vaffanculo Eh Eh Aspetta mi pronuncio FALTI GAMER Non hai fatto niente Aspetta Va cagare Con un'altra intonazione forse La 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 Ma Chi è Itzpaolo? Admin Certo Potete giocare Ciao Matiz Gamer 63 Ma come vai a scrivere in globale? Con la chiocciola Comunque c'è uno qua Vabbè dai Poveri No cosa Che dici sono in live Vabbè 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 Gli faccio capire che Ma sono in tre Eh No 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 Ti adesso mi banna Volevo fare abuso del mio potere Ma stavi reccando Tutto Eh Vabbè Dai Vabbè Che ti prega Un gioco No Le ammazzo Dai voracci bianci Ah almeno l'ha messo che sono scarse Dai Così Eh no i brink se li vanno Se li vanno Mancano 6 iscritti Vabbè fanci Non scrivere niente Perché poi succede Il cavallo di torri Non si è portato a casa Ci credi che adesso li ammazzo tutti No No Ti vedo adesso Uzzuni No Uzzuni 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 C'è pure l'admin Paola Non riesco ad andare alla base di rosa Sono qui camperato da vent'anni D'ora non mi vedo Bravo tu ti sai Gli attirali Dove stai scusa? Eh lo so sono No non venire da me Non venire da me Tu portateli via Ho detto portateli via Eh Tanta Non d'ho visto Tadadadadadadadadada O Nid Nid L'aura Non gli scrivere niente Ho spiegato tutto il mio oro Per farmi delle frecce Non so Non l'ho fatta apposta Nii na 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 nii na Franchi Questo Franchi a chi lo dò Nix è qua So so che 2 più 2 fa Facciamo tipo la 205 iscritti per vedere Ormai abbiamo detto a questo Sì vabbè Eh no perché se no uno si può disiscrivere Almeno mettiamo 205 per essere sicuro Penso io Sì da dietro il blocco mi ha preso No no Franchi Franchi l'ho visto Vabbè Il fastidio è che mi insulta di chi Laura Spisci Porco di dio Io gli sto bo spammando tipo un po' tutto Ho trovato uno stack di ferro sul ponte Ma che cazzo Oro in giro Mi ha un po' bo spammato sto qua Eeeh bravo No no bravissimi Siamo Con l'invisibilità Sei 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 Nicola non possiamo più morire Morirò Tappo l'ho attivata Tappo l'ho riattivata Raga 125 iscritti Ah è cresciato È cresciato Quanto sta puttana Nicola Vado a fare un affare Due vis due senza letto Sì Ma noi i bastardi ci ammazzo Un secondo Vado con l'invisibilità non capisco un cazzo Partita più equa Dammi smeraldi Anche l'ho Ma sono scarsi sti troglioni Cosa gli chiedono So raggi Vatti l'enderpelle Hai capito Cosa Quanti smeraldi hai Non andare Distraili veloce Non andare E vieni No Ho l'invisibilità Aiuto Ti ho chiesto di venire E' grande Franci Oh yeah 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 Franci Yeah Franci Se lo sai Se venivi anche tu Gli avranno di sotto Il letto Yeah Guarda come la vedi Ah 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 Ha pure l'invisibilità Però ha detto Se tu fossi venuto con me Oh yeah Sono in base a loro Attento Ti arriva uno Con l'invisibilità Grazie Wow La vincis Dai Giati Cosa fai Ma cosa fai Il mattino Vai vai Adesso Cos Favo forte E noi Siamo Tiesto Grande Franci Il suo piano Franci Ma così si Fanno Lop Grande Franci Il suo piano Utilissimo Sì Franci Sì Sì Luggenia Proprio Ci chiamiamo No Brede Knock Knockback Ecco Non mi diceva che l'ho prendeva La via di puttana In culo a tua mamma Troia Come rosico Oh Non prendeva Knockback Sta troiella Io me la sfondo male nel culo Eh Facciamo Speed 2HC Adesso No La voleva Dove Facciamo Il 90 Ti Macqua No Facciamo Che Capitano Che No Ti Maccani Certo Dopo Questo Ecco Speed 2HC Dopo Questo No 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 Maddors 2 No 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 Chi va va Mmhm Va da Bello Indotto Chi va va Tu va Bello Alibaba Mhm Alibaba Alibaba Eccomi qua Nic Ok Mi sente Ok mi sente Oh No 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 ая A Bird Bello, dù che ti dice? Perdi C'è a me, c'è a me C'è a me C'è a me C'è a me nu 나 mi nośp nana 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 porca sp questa まata mi sto facendo un controllo Dica se è in live Entra e dica se è in live Sono mutato per 11 ore Adesso come faccio? Bene Scrivi io tu Sto facendo una live Guarda Chi ti ha chiccato? Acer Nick Scrivi Acer The Gaming Salutalo Eh no perché è un modder Mi ha portato qua Slog A missione H Bando di C H dovate davanti a un cantallo H non è inutilizzato Ciao Ciao Acer Gaming Quindi iscriviti Cabannato No No Updata Ci sono Aspetta Picco Eh non si vede perché ho messo solo Che puoi vedere mai Perché ti ha chiccato? E perché dici con gli hack Anche se sto facendo una live È handicappato Vabbè poverino dai No quello poverino è handicappato Eh vabbè C'è la VIP No certo Ti riempi C'è la VIP C'è la La lambe Ehi C'è la VIP Ah c'è la infame Ok Ok Eh Dati No Dati Ti No Eh aspetta 184 184 184 183 183 227 Poi controllano Quelli No Il kit Seeee E scher Raga cosa dite di questo controllo hack è bannato permanente per non anche hey man aspetta ciao e questo no cosa ma mi ha sparito lo sciopito ma di che questo questo aspetta aspetta aspettata per cento vai dove state messaggiando? eh no faccio tutto no 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 questo no no si no no ah ecco aspetta vi stai facendo fai tanto aspetta aspetta vi stai facendo fai lo c'è come l'ho l'ho e non capisco ah c'è lo mi sto accontillando non capisco mi sto controllando ho un ottimo vabbè vedo che mi voglio vannare così a casa si ti vannerà sicuramente per modo non ammesso forse non lo so sto facendo un casino non capisco cosa mi sto controllando i screenshot lo vai mi sto controllando i screenshot non lo so se mi hanno un lupe d'offe o legge i commenti si questo c'è anche il laurea per prendere il figlio di troia vado a fare l'helper Nick eh vado su crazy a fare l'helper questo intanto mi no mi legge un attimo i commenti no dai abbiamo finito raga mi hanno appena fatto un conto l'hanno cliccato e hanno cliccato poi dalla bedbox e vabbè va e vabbè e vabbè e vabbè come filare un conto l'hanno cliccato andiamo su pix ok ok mi hanno accusato poi di hack bellissimo quando ti accusano per le hack che non hai vado nelle solo o nelle team team no quanti giocatori servono per iniziare 12 vai nelle team ok mi dice proxy che vuol dire è proxato che vuol dire ah lascia stare ah ma santa gente cioè sono andato un attimo io vai ah mi dice proxy lost connection anche a me no vabbè facciamolo solo vai prova a entrare prima tu vai ok ehi io l'ho pagato l'ho pagato io l'ho pagato sono il più forte del server si fa tu mi lasciare vincere a me però vado a chiamare gente poi decidi tu dicono 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 anche su wild di andare sono bannato ancora è bannato il nabbo eh ho detto porca dio me l'ho bannato per due giorni per dargli merda già ah ho finito il parkour nina 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 dai mancano dieci persone sto spammando perché non puoi entrare su pizza rod federico sp il premio è il server ci serve un account dimmi se ci serve un account sto spammando a vai l'ho chiamato gente guarda dai ciao spinchi 99 spinchi era quello che avevo conosciuto dieci sulle mi dice che mancano due persone provo a riavviare minecraft non lo so non lo so a lui nico si disco e ti es sono tutti iscritti diciamo no non entrare in nessuna istanza ragazzi mi le prego spinchi allora vigente forza non ce n'è nessuna in casa a chi daresti la win se la vinco la vinco cioè se la vinco la vinco ha infame spero che muorra questo che bel server no ieri troppo bello bel server mi trova era all'inizio combatte contro due mini zombie no 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 vabbè basta spammarsi siamo in sedia diciamo eeeh 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 l'hai scritto pure malicero ma vergognati ok ammazza tanta gente ancora cosa come ci ha sperato che mi voleva bannare non è l'insulti l'hanno giocato l'hanno giocato l'hanno giocato sono bellissime si è vero ok cazzo io sono il primo di tutto dalle classifiche l'hanno giocato eeeh non credo perchè non gioco da tanto tempo tipo tipo dici oh oh no ragazzi sono crashate mi da questi shhhh no tipo ci stanno sentendo stacca 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 no se la vinco la vinco hai fame ragazzi tutti su franci bravi no no ho fatto 16 bottoni ma porca godo questo è il karma che non vuoi karma di merdo io mi vendo un bel patino ti dico se è in live come rispondo prendi la pelle nick prendi la pelle eeeh per inciutare mi servono le foglie no se vuoi le canne volevo dire eh si prendi la tante quante eh tre e vuoi farti i piedini quelli OP tutte quelle robe che sono i piedini OP lascia ah sono caduta la vada sono scemo no nick no non morire c'è un pezzo d'acqua nick tra poco verrai curato c'è mi faccio telefoni di merda quanti telefoni ti suonano nick? uno io mi metto una base due per tre ti avviso oh no per favore tutti i miei geni mamma mia tutta la vita o sono a metà butto toglie quando hai due metti un calzino sul microfono soffochiamo i microfoni si no per non fare il soffolo non lo sapevi? no e non lo voglio sapere fingia il suo mouse scherati oh eh ti dimenti di tutto ma c'è il mouse dalla Cina come lo si offendere i mouse cinesi allora è davvero dalla Cina no dalle indie del nord ok ma quanto sono presto i whc? no no è morto questo adesso tipo c'è per esempio un bel server che è bobb tipo aaaah bocchum mo che cazzo no non c'è è vero che mi hai iniziato a guardare gli skinshot che se avevo tipo le hack per skinshot no sì ma non se ne accorto che avevo tipo lo skinshot con la flux b4 e non lo dire perché ti banna e volevo dire buona serata rivederci stacchiamo la live ok no tipo adesso sto ancora guardando la live e poi tipo ho preso la flux b4 l'ho cancellata di bot subito te la trovano con i tools no ho tolto tutto ah tutto no stiamo facendo una whc speed speed scusa scusa no che mongoloido che sono chiedono se dopo andiamo su the eye ok vabbè perché il mio amico ha detto no mi dispiace però che cazzo perché ci fai questo perché lo si può craftare in modo per far ti devi prendere la devi prendere cazzo vuoi zio allora schifo stasera non è vero ma ti banno tipo sono i modder che bello è bellissimo sto server mi ha curato ecco tutti curati cioè jox viene curato e lui cosa fa prende ancora danno perché non è contento tipo no io volevo morire no tipo si suicida si sa per suicidare e e e nel mentore si recupera tutta la vita questo dice via ma è facile è una speed whc madonna ma io non li savo mai what io ho 2 4 6 8 diamanti no davvero secondo me da grande potessi essere il nuovo Einstein cioè se fai sti calcoli madonna uh altri diamanti ho capito che ho capito che li zeri però calmati no non è facile sei diamanti è facile è impossibile trovare oro per me cioè sono morti 5 player già ma che cazzo è vero ammazzo no uno è crashato me lo ha detto mi è scritto se dopo ne perdiamo un altro può fare slash le join se andro nelle speed whc nel lab è vero non sto coprendo le colpinate tu 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 cosa bel server bel server è morto ciao bel no c'ho c'ho un cuore c'ho un mezzo cuore lui muore sempre non so perché un minuto di silenzio per bel server tu 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 dai dai no ti ho batti le mani scacca le vita bel server non riuscirò mai vincere una guacacchina non è bella giovane giovane io sono un quarto in dio è pronto? vabbè hai 18 minuti Nick va va cammina e non tornare tipo la zero alzati e cammina vai Nick tranquillo si basta che non mi teserate male perché io ho solo 18 minuti cos'è sta mafia? toglimi l'audio a me perché? no mi spia è sempre stermia qualcuno mi spia vabbè poi vede ciao vai me la tolgo ciao Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ma che che è? è un ninja? è un hack? o è un... è un... è un ninja? che sei scherzo davide bozzetto grazie 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 dai è morto ma quello è nudo forverino ma mi ha teserato cosa Franci? Franci ma quello mi ha teserato si ma oggi mi ha ruttato a capo mi ha spaccato a capo Franci Franci 16 giocatori rienta Franci finiziano 2 secondi mi spiace ci sono davvero? yes ho sentito dalle cuffie wakaci wakaci dico ma quello di prima mi ha teserato o? vi ha teletrasportato ecco anche io sono morto stavo mangiando oh c'è un herfer stai zitto chi è? chi è sto herfer? chi è sto herfer? eh zitto vediamo se la gente mi vuole far mutare o che figo c'è uno c'è c'è aspetta 21 battles ma comunque quello c'è si era fatto full dia enchant c'è anche io protection 2 enchant 3 come hai fatto a morire? eh stavo mangiando che sfortuna appena sei rientrata hai visto che eri morto? no non ho detto niente niente questa non la vengo perchè? chi c'è di forte? di gente forte no sono nell'Xtreme Hills c'è? iiii niente come faccio a capire se sto vicino al bordo sia o no? dalle coordinate no ma tanto il bordo non ti fa nulla sicuro? nel trasporto il bordo non parte ah dai comunque mi faccio fare aspect come fai? eh no dai dai franci c'è un bioma che si chiama Xtreme Hills e qual'è? qual'è? trovi gli smeraldi ecco gli smeraldi e la roba ma qual'è l'Xtreme Hills? Xtreme Hills ecco io ci sono zucca blade zucca blade zucca blade dico ma che bioma è? com'è fatto? dimmi hai visto che c'è una montagna? no vabbè c'è una montagna sotto la montagna quella è Xtreme Hills eh sotto la montagna c'è Xtreme Hills ho capito il scritto lo leggi nel f3 testa di cazzo oh minchia puttana il cibo vabbè la gente già muore da cazzo di nabbi fuori ma lo fanno per spectarti no allora son nabbi fuori fuori raccontinite Fifi si si può vincere da full iron lisci io se l'ho vinto si ma la gente si è incianta la gente nabba no eh si è incianta forse serve la lapis il lapis si si ora sto da qui ho i 166 iscritti eh non dico altro 100 196 vabbè vado in caverna io a 200 gb a 200 io accanto e tu già ce li hai pronti no? i i i che i i i i i non c'è una cave devi avere due esmeraldi vabbè, due esmeraldi due diamanti per fare una spada vabbè, lascia stare, devi sapere i kit come si fa? tu non mi hai detto tutte queste cose ci sono al lab e che ne sono? no raga chi sei dis iscritto si iscrivi subito per favore no 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 si 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 ciabba cascio e te l'avevo scritto prima cosa e l'avevo scritto prima Ma come si fa? Cioè l'abbiamo detto 5 secondi fa, devi avere una spada di asmeraldi e diamanti. E lava. E lava. E un libro. E un libro. Secondo me ti stai inventando un po' le cose. No, 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 è giusto. Io ho uno stack di oro. Io prima potevo fare la godetto, anzi due ne potevo fare. Comunque prima ha vinto Ninja. Adesso c'è? No, perché sennò l'ho arrivato male. Fai, Franci. Ciao, CRTB basta eh. Che è successo? No, che sto facendo a tutti scritto ricambi. Soltanto non mi traduce la pagina, quindi non so quale è per bannare. Eh, che hai fatto? Mettila in time out. Eh, mi dice tutto in tedesco, non so quindi qual è. Eh! Certo. Certo. Ok, non so. Certo. Ok, non so. Un libro. Ok, ci sono. Ok, un libro è scritto. Grazie. Nick sono morto perché no ce l'ho smeraldo mi sfioro è tipo 5 zombie creeper ma porca giuda non c'è diamanti io non ho diamanti Franci ci trovo è facile a dirvi ma l'importante è che mi faccio file aspect no no l'importante che muore che c'è sì un attimo no qua ma io devo dare la testa non dopo aspetta un attimo devo fare una cosa ciao mi esploso un creeper e la faccio ciao 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 due schede tricondro porco oh ma sparano una metralla a 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 12 che aspetta ciao ciao sto facendo una live e lo sai perché sto seguendo la live hai messo dislike certo bravissimo però non ho l'account di youtube quindi non posso mettere iscriviti eh non posso farlo perché l'email mia non è vonida io ho l'iphone si 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 quindi non posso lo sappiamo che la tua email è contrabbandata lo sappiamo certo oh bro ma se starete avanti account li puoi fare pure gli amici vero? a tutti però ti togli dal caldo no io tipo darò l'email di un account poi la passo per esempio se sei accanto e poi la dovete scrivere ma che so generati o so account full access? eh non so e lì da un mio amico chi è? franchi gamer ma li fa come quelli che ho trattato io? eh credo che si nah che merda come osi che bello eh bravo no mi sei che mi sei sei poco morto eh? perché? l'ho messo bene l'hai messo due quarti eh? ti saranno fuldia eh lo so però non dici che poi l'ho visto l'ho messo l'ho messo lo so l'ho messo se dovete avere clash of crimes dopo vi scriviamo come si chiama il clan c'è uno fondio eh sei morto eh? spectre mate spectre mate si chiama eh pippa ma che lo conosci lotto? non manco lo so chi sia attacco su lotto? mi devasto lotto si mi devasto questo lo so ti devo sfamando eretto satan ma mi devasto lotto bro eh tu attaccalo comunque ci provo eh donami aspetta non posso è vero cazzeruola aspetta aspetta un po' che sai vabbè vabbè io ho richiesto aspetta hanno scritto che loro hanno clash of clans un iscritto ha detto che io hanno clash of clans allora chiedi come hai messo o come sei messo? uè bellocchio come sei messo? uè bellocchio te faccio uè occhi blu te faccio male uè 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 tramo ecco aspetta 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 scrivete di che posto siete tipo tutti mo lì se mo lì se non esiste io mi questo tipo non lo stancherai dentro casa non stai non stai laggando non lo giuro no no non lo giuro te lo giuro io ho 473 che dico? 473 cosa? ho solo 172 frecce adesso come posto fanno ma tommi dai non mi aveva manco minecraft facciate che situazioni so io so tipo gente non fortissima neanche no cioè tipo tipo me tipo gente che foteglierà ecco ah ho capito tipo senza affesa tipo marcuccio oh marcuccio sta guardando la live marcuccio lo sai che ti voglio bene? ma perchè non mi fa no allora forse no gli vuoi bene però lo stai offendendo ok no non è vero marcuccio ma io ti faccio con te eh non vogliamo fare no marcuccio scappa finchè puoi marcuccio scrivimi in privato oi leggi un attimo la chat della live che sta un one moment devo fare una cosa che mi fa entrare io ho bisogno di spettatori no che mi dicano dove sono dove è la gente mi sto offendendo solo frecce in che vorrei sono che sono ok stanno arrivando dun 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 what the fuck vieni mi divo vagate nanana ta 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 oh pita di oh lì c'ho una gallina mi sa che non posso più installare cose picchi perchè non posso manca entrare con la 1.9 forge perchè ho installato la 1.12 forge e allora autoclick discord flux bravia immaci e no no ok sento gente che sclera io devo capire io devo capire dove sono no 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 ti giuro mi sa che devo giocare con la 1.9 quanti fai no? io mi ammazzo perchè non ti piace la 1.9 no un cazzo perchè? 1.8 a me non piace la 1.9 sei razzista con i numeri dispori ma cosa? dici dici sanno allora sesso quanto non mi dispi ne ho saputo ok non mi fa entrare io santuario mmm non mi vanno a fare un po' un po' oh mio dio vediamo 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 questi stanno crostimmando non so di te si si capisce che stanno crostimmando perchè pure io lo faccio quando crostimo un po' 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 Non riesco ad entrare, ti giuro con la 1.8 Perché non mi fa entrare con la 1.8 Ah bello che crostimano Mi piace molto questa cosa Rosita, sono crostimando Rosita, di qualcosa Rosita, Rosita, è una bellissima Rosita, Rosita sei sti tu Rosita, sono crostimando Di qualcosa, Rosita È porco schifo Rosita, Rosita Sono crostimando Rosita, Rosita Che fai? Permettigli una super Rosita, Rosita Oddio, siamo uno, ho visto uno Lasciami la questo Ma in realtà mi toccano 1.9.zigmod Allora, i commenti dicono Allora Ho crash, io sono TH8.8 Io sono Baltimore in Tarbiano Io dirò Ho due profili su TH7 Uh, sono online TH7 e altro TH6 Sei in una città in Puglia Fai Arena Io vengo dalla Sicilia Linkgibba ora gli account No, ha 200 iscritti Ha 200 iscritti Aspetta, Francesco Il tipo di Zeros ha 200 iscritti Dove dove andare per mettere password e email Si, però non ci arriviamo E alla fine E la live finirà Give ora gli account Nick No O TH9 O TH8 Quasi maxato Allora ragazzi Dopo io mi manderò Tutti Che serve sai? Sono pixel Fai con l'LP Eh, MC L'ho visto, ho visto Dai, sì Mi stanno chiudendo Sono orientati Mi stanno chiudendo Poi dici Sto riccando Sto in live Eh, lo so Lo so Eh, ma tanto Continuo lo stesso Eh, bello Fanno finta di combattere Poi Cominciamo a ricostimare Eh E non ho capito Guarda Tshuuu L'ho buttato giù Fai Ok, è morto No Ma me ne la vita Hai vinto Hai vinto Nice Ha vinto Hai vinto No, ha vinto Ok Raga, iscrivetevi Che ha 200 iscritti Giverò 20 account Premium Quando ci sei il mio amico Fra Francesco Ok 197 Dai Mi mancano tre Vieni Sì Sfarniamo Ombro Voi Voi vediamo Che è fra Ma sei morto No No Citi di sfera Eh No Citi di sfera E basta Sto qua Sto qua Sto qua Non ho capito Che lo spammerò Tei 150 Tei frecchi Ma Sto attivo Sto spammando Allora Con il memo server Da poco Quando sei morto O vinci No Che te ne morirò E ho fatto vinta Che era uscito E Vos spam Vos spam Vos spam Vos spam Vos spam Mi ha fatto Mi ha fatto vai Tipo un volo C'è un incutine di pizza L'ho appena visto Stavo vedendo i craftini Ho visto un incutine di pizza Questo lo sto continuando A bus spam Sei poco morto Mi dicevano Eh già Mi è stato Poi L'ag Che farai Cosa Quante video Some morto Vabbè Che facciamo GG Allora Marcuccio X Barney Vabbè Ora Che volentai Se volentai Nel mio canso Clash of Clans Se chiam Kings Of Clash Scrivilo Su Discord E su Discord Su Dove andiamo Su che server Lo sai che potremmo fare Hai 200 là E 200 iscritti Oltre agli account Mettiamo pure Il server Discord Per giocare con noi Con i veri E gli unici Io non vi prego niente Ma dettagliate Ma scrivendoci Se volete In Discord Dove così parliamo E chiacchierate Basta che non spammate Siamo a 12 like Su che server andiamo? Vediamo Marco Indicano Vieni su Arena Andiamo su Arena Indicano tutti Arena Sì va bene Tutti su Arena Ok Facciamo il SG Ehm Boh Facciamo il SG Non ne hai mai portati Sì l'ho portati Sto facendo pure una serie Canale Canale In live In live Sì l'ho portati In live Sì Ma non mi ricordo Mi so Non piacciono molto Ehm Scriveteci Ma piacciono molto Le Bad Wars Volete fare Bad Wars Scrivetevi In chat Cosa volete fare Eh Sono mutato Sì sono mutato Perma Su Arena Allora Faccio io Perché sono mutato Perma Non mi sono spammato Un po' di volte No No Ok Si dicono Ste cose Screen C'è uno che dice Screen Sì lo so Tutta la gente Me lo chiede Ma spai Pure io Screen Anic Anic Io Oddio Sono YouTube Vai Lobby Tutti Lobby Lobby Aspetta Lobby 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 20 Lobby 20 I primi Lobby 20 Bad Wars Lobby 20 Lobby 21 Si lo sento Drag Come fate a vedere Tutti la mia password No adesso lo vedo c'è sto bel search entrati mc.mc.arenacraft.it vieni nei verdi eh no, ormai già sto negli aranciuni no, vieni con me, vieni dica se qualcuno che iscriva che siamo su Discord qualcuno che mi scende il posto qui oh, iscrivi il nome del clan su Clash of Clans su dove? su qua King of Clans o Clash King of Clans allora, chi vuole venire con me? io vado nel... vabbè, ma stiamo insieme, vieni con me allora... andiamo noi due, facciamo insieme da due all'ultimo cambiamo, ok? no così stiamo insieme da due piqui piquiii mica vamo acquirlo zai io ho acquirlo, tu acquirlo, buvo fa esci di esci di esci di esci di esci di, che soni live piccola bufu 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 piccola bufu oh oddio non lo sapevo stacola davvero non lo sapevi c'è davvero sono veramente è globale anche gli altri che sono vedete bad 20 ma ci sono due c'è gente che ha la mia skin è è è di rispondi tu io sono montato per che hanno detto qua in chat dico posso andare non posso dire di che siamo su discord siamo su discord discord scrivilo qua senza fare esercizi scrivilo adesso corri corri che sono in live si certo io dobbiamo dare a me se possiamo contare allora scrivi punto esclamativo e scrivi che sono in live così io dico a tutti quelli da questa partita dov'è il punto esclamativo che ne so è sull'uno la gente è felice che sta con me per dettaglio canale nick roma comunque non gli hai detto mi dice che non è punto esclamativo di scrivere e poi staccato ecco bravo canale canale si scrive così ok è è dico ma non gli hai detto più a pucca di attaccare un uor si che l'ha detto e non ha attaccato è stupido lui sta a fare delle cose scrivi sì anche sul sì anche sull'ipad e sul telefono sono un po' nerdo diciamo io nerdo su clash quanto sono prodigio? quanto costa la lana? la lana? 8 4 4 4 4 4 4 stai costruendo il letto 6 4 4 4 stai costruendo il letto mi sbaglio pensai che l'avesse costruendo tutto in realtà non l'aveva finito quindi ero che tutto nel 4 non sai quanto costa non sai quanto costa la lana? no no dai dici davvero che dir cos'è? Crali? credi cali cali c-r-a-l-y non so come lo chiami tu e w-w eeeh i miei scritti ma quello là da quanto it? c'è da casa mia ho 188 iscritti dai raga 2 per giveaway 2 iscritti per giveaway ma sai che sei stupida perchè? perchè? perchè è più forte non sta dalla base quindi io posso attaccare alla base tua non sai picchi fai questo perchè il rosso non sta dalla base tua no picchi picchi però non lo vale picchi ok scusa mi andavo ok è una balena in live è una balena in live mi dovete togliere davide capito davide eh ti stabilizzavo è una balena in live è una balena in live perchè? è una balena in live raga ogni scritta hai 200 ogni scritta è 200 tipo no ragazzi io ho detto 800 iscritti anche ok no hanno detto Nick Roma chiude il canale adesso tutti arriva un miliardi di iscritti dai 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 ha mille iscritti Nick Roma chiude il canale adesso ho un milione dai dai e ragazzi se nick roma l'entonino di francesco chiude il canale tutte le persone nel mondo iniziano ad arrivare e sul nuovo account devi andare dei skycard seleziona nuovo account tutti i miei scritti sono sp non è vero la maggior parte e io? ho detto la maggior parte si fa così no ti spiego io come ti dico io come ti ho preso è bellissimo come ti ho preso è bellissimo non so manco io come mi hai preso vuoi un titolo super un premio oscar andiamo a uccidere qualcuno sempre stiamo a combattere uno e due e ora mi vado a uccidere qualcun altro e poi tutti e poi tutti non tutti dai rossi tutti dai rossi nessuno ha ancora dei sottelletti nessuno e vabbè questo qua da 40 blocchi l'artufo usa chi lavora mi sa no no che lato sono ancora per caso esistono youtuber con la targhetta da youtuber su arena si non l'ho mai visto io ho visto quello che serva bello ho parlato chi è che c'è di sotto l'87 un iscarito bello bellissimo che è che ti ha ucciso oh mio dio non sai come mi sono salvato vengono altri in base no allora no sono i tuoi teammate testa di culo testa venite in base subito bello l'ho ucciso pure ssh no io ho detto ci sono un po' cosa li ho fatto allontanare da loro io ho detto venite in base nooo ma ci stai vedendo perciò di me e poi dici che vuoi proteggere me no diciamo che io sono morto diciamo che io sono morto oh mio dio infarto ciao marcuccio ma non puoi uccidere è un molto grande amico marcuccio non puoi ma infatti non l'ucido oh oh ma c'è una squadra dell'inferno te io sto morendo infatti ho uno di vita 200 raga 200? si e adesso come? non ho gli account franchi 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 118 ho un problema un cuore di merda ragazzi allora si 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 sabox io ce l'avrei pure ok passa tutti ti prego no tipo raga 200 iscritti ma non ho gli account stacca 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 shhh shhh io non mi ha detto niente avete proprio capito capito stacca 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 non sono io e te possiamo capire Zatone marcuccio che che è attimo morto marcuccio tu hai visto che qualcuno ha scritto ai 200 iscritti si chivano? no 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 vedi torna no macuccio vieni vieni qua vi sono facendo un dove vi sono son morto son morto no 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 tu 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 nu ti tu na wow fling a ci sono un youtube man due ti voglio bene ora vado a fare non fare le skywars vai inizio a chi fare posso me ne guardo uno con me vero? non è che uno con me vero? raga allora che è successo? aspettate un attimo è successa una cosa oh merda rana non puoi capire cosa ha fatto no 10 eh ma sono morto vai il dolore non ha loppi sono morto e io non ce l'ho non ce l'ho ti giuro l'ho finito tutti non c'ho più quello che mi ha mandato l'amico mio allineate e no finito se lo so fa secondo te mamma che andiamo su Bryson o P io un po' ma chi non lo so oh nicaroma ne date 1 o 2 no quando fate copia in colla dovete togliere una letta e poi rimetterla 5 o 6 6 ne date ok ne ho mandato 1 o 2 volte ne ho mandato 1 o 2 volte mo ci provo io non no e così ecco Grazie a tutti. Guarda, non funzionano il corpo vostro, raga. Lo fanno? No, no, no. Ma come si toglie? Vai via. Io raga dove andare.